salve a tutti ragazzi bella 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 raga non posso fare subito una intro perché siamo nel mezzo di una battaglia ragazzi vi devo spiegare cosa è successo appena è finito il video allora scorso video praticamente è successo così io sono stavo per andare a prendermi un bicchiere d'acqua no ho messo in pausa e la non sapevo che mettermi in pausa solo i mostri ancora si muovevano infatti mi hanno ucciso tutto fare una corsa contro il tempo ora tutto ok sono tutti morti è passata la notte meno male veramente proprio ragazzi ragazzi veramente sono partito dalla casa che sta veramente lontano ma la ricordo molto più vicino fa tutto tutta la foresta sono ritornato qua ma ci siamo quindi salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono obsidian maker e oggi siamo tornati su minecraft è stata veramente dura vi giuro veramente volevo farci un video battaglia ma quanto pare già subito mattina quindi possiamo continuare l'esplorazione ma quali mettiamo subito un po o in ordine l'inventario perché è successo di tutto e quindi ora alimentare non ce l'ho più in ordine la mappa c'è il dovere nella mano qua qua tutte le robe qua poi prendiamo il pietresco questo e ho finito tutto che cosa facciamo adesso l'avevo visto questa grotta e non lo so se è bella però visto che credo che vi siete stufati con tutti i video che in cui io vado a fare c'è vado in miniera in camera oggi andiamo solo a esplorare sperando di trovare qualcuno no va bene raga un ender non fermi lo devo subito uccidere no 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 aspetta vieni vieni qua dai vieni vieni ti sfido forza forza ti sfido calma donna calma calma oh come così raga no vabbè non ce la posso fare ragazza super combattimento erbico contro un ender ah che ti arrendi che ti arrendi ora eh ti arrendi no non sei adesso vieni qua non ti arrendi ti arrendi muori oh no raga no mi ha troppato il blocco con no questo raga questo è un tesoro preziosissimo perché non è un blocco di terra questa è terra con l'erba che sedere no vabbè questa è proprio una cosa preziosa no devo fare una galleria di tutti gli oggetti preziosi che io no questo è preziosissimo non l'ho ottenuto neanche con con una con una una pala con il coso con il l'incantesimo che mi dà pure le api abbiamo pure le api è però per le api ragazzi dove vorrei acqui del miele sapete quindi adesso sapete cosa faccio facciamo una bottiglia esatto facciamo anche una carta in tempo facciamo una fornace dove la fornace hanno giusto non mette la gasto in tempo sono stupido facciamo una fornace e mettiamo a cuocere la sabbia poi dopo magari appena ho fatto questo ci metto anche poi posso mettere questo qua perfetto perfetto vetro perfettissimo così mi faccio una boccetta e prendo il miele perfetto no 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 perfetto adesso anche non è pronto oddio ma che c'è la perigina non ho mai sentito non dimmi che c'è la perigina perché se abbiamo trovato la perigina non so se fanno così poi il rumore è il video più fortunato del mondo ma si vuole veramente abbiamo trovato la perigina no perché sennò proprio siamo for super fortunata questo subito subito facciamo immediatamente un dove sta la boccia la boccia la boccia la boccetta eccola la perfetto ma c'è una boccetta così no da 3 ok quindi vedremo anche di un pezzettino alla qua non ancora fatti infatti non sento più il rumore non so se l'avete sentito anche voi magari lo sento abbiamo un po di legno intanto perché mi va soprattutto perché oggi se torniamo a casa torniamo nella casa torniamo a casa un altro alveare pure fortuna oddio mi sono preso un colpo mannaggia a voi se torniamo nell'alveare ragazzi mi sto rincoglionendo ok se torniamo a casa vorrei farla più esteticamente in senso più bella allora poi qua sotto vabbè prima o poi lo troveremo il diamante quindi è inutile che tutti mi dicono nei commenti che tipo ho tipo abbiamo visto il diamante ma l'ho missato perché piano piano lo troveremo comunque ma mi fanno ieri colpi ma che è ancora il miele non l'hanno fatto però eh intanto che loro fanno il miele entriamo in sta grotta ma si tanto dai che vuoi che sia cosa può succedere di male cioè se proprio ti succede qualcosa di male ma muori cioè minimo se proprio mi succede qualcosa di male muoio beh bellissima raga questa grotta è lui eh ah no ok ah no c'è un po' continuo ma perché sennò era la grotta più utile no l'ho visto bene no raga ma poi come perché sono caduto come ha fatto a cadere dai è uno spawner di ragni ma voi non siete aggressivi no ma siete aggressivi sono aggressivi non dovrebbero essere aggressivi eh sì sono aggressivi forza possiamo fare una farm di ragno cosa no 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 questo non vale non vale non ho più la strada non vale tutto così ecco perfetto oh che bello un po' alla grano ferro apprezzato gunpowder di creeper perfetto carbone una sella la sella molto eh non ho più roba cosa butto rinuncerò al pezzo di vetro sicuramente per prendere il disco e per prendere il pane rinuncerò a qualcosa di nulla a un arboscello ragazzi a un arboscello la gunpowder la prendiamo ecco di qua ragazzi invece un altro grano ma abbiamo tre dischi tutti uguali ma perché spiegatemi l'utilità tanta tante ossa non abbiamo non ho spazio per la carne marcia su questo punto rinuncerò a alla freccia per prendere un po' la carne marcia il disco che ne serve solo uno il disco un gatto allora vorrei provare a fare un po' di farm perché cioè lo so che è dischioso no aspetta un attimo allora vorrei farm un'altra spada vi salvo in superficie a farm non c'ho voglia di farmi un'altra carta in terrible ah a proposito le api hanno fatto eh le api le api hanno fatto spero hanno fatto sì quando hanno fatto la sincacchierano tipo tantissima però non ci sono incacchiate ma non si dovrebbero arrabbiare quando oddio mamma io non ah no aspetta no ho visto bene no vabbè vuol dire che qua quante cose stavano in questi episodi in questo episodio raga veramente via tutto via ma veramente ok aspetta via spada in legno via perfetto dobbiamo andare a vedere ok dobbiamo farmi una spada in piedra cioè avrei anche la spada in legno però per quelli mi sembra però se voglio seguirli è l'unica cosa che posso usare per adesso via via seguiamoli non posso perdermi un'occasione così no dove sono no non dimmi che sono respawnati no no non posso perdermi un'occasione così no no tu mi ne vedi mi prendi no mi sono perso un'occasione così no 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 se andando di qua ci sarà un motivo dai no no potevamo arrivare al loro castel tra virgolette al loro campano mannaggia è colpa tua ma quando mi ribeccano che sono il genere poi dove cacchio sono sbagliamente vabbè aspetta vedo bene là c'è il deserto interessante ti lascia il deserto ma poi di qua fammi caricare uh ah no non è il deserto il confine del mondo c'è che poi non è il confine del mondo perché non ci deve essere il confine ah no c'è il deserto però sta dall'altra parte del mare interessante comunque no non c'è la torre dei dei cosi vabbè a questo punto a questo punto ehm bobi ma si c'è quello no vabbè se mi dessi che l'armatura si tutto più bello no creeper tu no no il creeper no non mi uccide quello non me lo devi uccidere perché deve venire davanti lo zombie se voglio il creeper ecco bravo il creeper pure da via non mi servite sono dei due ah adesso sono dei due capi eh che il creeper non c'è più eh ma 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 io che sfiga ho oggi mi si rompono tutte le vabbè dovrò una corsa beh però i ragni sono ben graditi vieni qua piscione vabbè quanto quanto forte pur i creeper abbiamo qui eh oh oggi oh finalmente posso fare un episodio che che combatto invece di andare in miniera sei contenti? andiamo a farci subito un un'arma decente una spada in pietra e partiamo anzi una spada in ferro una spada in ferro non sarebbe neanche sì vabbè calmi 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 allora ragazzi calmiamo ho capito che siete tutti molto fai esplodere fai una buona volta fai esplodere una buona volta no vabbè vabbè vai esplodi per una buona volta il colmo sarebbe se caressi in una grossa dai che il pullascio non dura ahhh ma col piccone li devo picchiare dai mamma mia manca una cosa che dura un pochino di più niente col piccone vai non dura niente niente dura col favore metti le torce grazie non vorrei che spavessero altri bello bene una mela una mela le mie le mie le mie le mie le mie bene ho visto degli occhi rossi nel buio mi sbaglio? mi sbaglio è molto buio ecco infatti anche loro stanno là quindi che ne dite se aspetta prima di tutto vorrei fare una cosa ecco così perfetto così magari non sono anche stanno qua ecco allora prima di tutto facciamo basta mi sono rotto facciamo una spada in pietra aspettate facciamo una cassa non volevo quella eh perfetto allora ragazzi allora la mettiamo là perché si e ci mettiamo le cose inutili allora questo 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 per adesso le cose inutili per adesso cioè le cose che per adesso nel combattimento non mi servono ecco dopo riprenderemo tutto così le cose magari non despavano e porteremo tutto a casa tutto tutto porteremo tutto a casa una spada mi dovrebbe bastare per sicurezza me ne faccio un'altra ma si dai me ne faccio un'altra di spada ma si ma si dai per sicurezza me ne faccio un'altra di spada la mappa me la devo portare poi allora eh si devo fare un po' di torci ragazzi questo epigenio non durerà tantissimo spero combattiamo e poi basta cioè non possiamo un po' durare chissà quanto eh calmi allora perfetto ragazzi possiamo partire per il combattimento mangiamo e andiamo forza allora ho visto un clip ma voi non dovreste ma anche le api stanno qua anche nei momenti così ma ciao bello ho detto zio di prima ti ho visto anche te ecco forza e sei coraggio vieni sei coraggio oggi oggi no tu non devi esplodere vieni 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 c'hai paura c'hai paura vengo da te c'hai letteralmente paura eh no tu non esplodi ti ho detto non so se hai capito no aspetta mo soffoca attenzione ti attenti dai non è che ci vuole così tanto a spaccare un blocco di di terra dai vabbè cos'è ma ecco allora ma ma ciao zombini non è che c'hanno tutti qualcosa in testa ma io non li vorrei tanto la vorrei tanto che la droppassino ma come ti oh come ti ma come ti mi lo vuoi ragno tu ho visto eh ciao ma ce l'hanno con me oggi basta sicchiarmi allora poi anche abbiamo anche il canale in zucchero molto buono allora 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 ciao 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 zombie morti ma come effetto abbiamo anche un altro creeper magari se morissero no c'è ancora un ragno lo sento non sta nelle grotte beh non va non c'è come prima eh so che prima lo zombie era più era era organizzato ma è di ora non è organizzato eh no ragazzi che battaglia veramente il creeper è così morto ok lo zombie è morto e il creeper è morto bene eh dove si spunti a morire ok e anche qua abbiamo fatto poi magari avere un trovare un enderman così ci droppi il eppure tu da dove spunti sei appena spaunato morto ma è ridicolo c'è proprio non c'è neanche il senso della battaglia dai potrei combattere anche occhi chiusi cioè dai un pochino più di di ok perfetto questo è morto ecco l'abbiamo ciao vieni zombie vieni vieni no sei invitato vieni sei invitato al festival vieni sei invitato vieni vieni attenzione ragazzi vabbè comunque ragazzi oggi ho fatto un episodio sul combattimento così vieni tutto un attimo adesso eh l'episodio sta durando ben 20 minuti quindi io direi di concluderlo qua ok facciamo un fight con due scheletri ragazzi un fight con due scheletri un all'arche incantato no vabbè la raga dobbiamo c'era prima dell'altro se me lo se me lo da no vabbè se è visto troppo epico ah così mettiamo oh poi l'ha detto il suo arco questo mi ha dato il suo però un po' inutile perché è usato si sta facendo giorno finalmente ah che bello che è fatto un bello ragazzi è stato un bel episodio cioè bello in senso bello che abbiamo combattuto tanto quindi qua che è sta roba che senso fare così tipo tipo queste ragazze il confine del messico fatto da Trump solo che là un muro qua è una linea allora ragazzi io credo che questo episodio si possa ancora nel prossimo ma si nel prossimo io direi che potremo continuare a visitare e saltariamo nel deserto e poi tornare a casa si perché no quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto intanto ammazzi i polli perché non mi fanno fare l'outro state zitti posso fare l'outro oppure voi dovete stare zitti eh cioè voi ok la legge va bene ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao